Siamo al 27 di dicembre, abbiamo un paesaggio uno più bello dell'altro. Il calare della sera, guardate qua, questi colori, queste nuvole nerastre, sugli sfondi a Gorgona, ancora più lontano. È una cosa fantastica, meravigliosa. La registro, nel giro di poco, poi la metto in un'altra. Mi sposto leggermente verso l'isola più grande dell'arciperago, che la vedete là. Si stalla in maniera decisa, no? L'isola dei sette paesi, provate poi a indovinarli. E l'isola dei bagai, qui ci abricchino ancora di più.